Nell'aula magna dell'Istituto Agrario di Mutigliano è stata presentata l'iniziativa 100.000 orti in Toscana, promossa dalla regione toscana. Presenta alla conferenza l'assessore regionale alla cultura Marco Remaschi, che ha spiegato che cosa rappresenta essenzialmente questo progetto. I ragazzi delle scuole, le persone più anziane, il mondo della disabilità, recuperare aree urbane e far capire l'importanza del cibo. È un aspetto di educazione alimentare sul quale noi vogliamo investire. 100.000 orti in Toscana prevede inoltre un percorso formativo per gli insegnanti, dedicato all'educazione alimentare e del gusto, curato da Slow Food. 28 studenti delle classi terze della scuola di Mutigliano affiancheranno ad ogenti nella realizzazione e gestione degli orti scolastici, in 15 scuole di infanzia, primari, secondari e di primo grado del territorio comunale. L'attività svolta dai ragazzi rientra in un percorso di alternanza fra scuola e lavoro, obbligatorio negli ultimi tre anni degli istituti tecnici. Il comune di Lucca ha aderito al progetto come ente sperimentatore, ottenendo un finanziamento di 90.000 euro. Poi c'è un fatto di grande rilevanza, sempre di più si guarda la qualità del cibo. L'orto è sicuramente il luogo dove ogni famiglia, teoricamente, può avere cibo utile per sé di alta qualità. La presenza di Slow Food, da questo punto di vista, va in quella direzione, far capire come l'alimentazione sana e l'alimentazione di qualità giova la vita di tutti. Sì, uno, due, tre.